Sono le prime delle donne per la solidarietà costituente, e io credo che anche questo mi sembrava l'interfaccia, insomma, hanno distribuito la nostra caccia costituzionale. E poi qua ne abbiamo donne che sono state prime, in quanto la prima ministra, la prima Anselmi, la prima presidente della Camera e la prima presidente di Regione, poi qua ci sono tre specchi e sopra due articoli della Costituzione. Perché tre specchi? Perché volendo mettere le fotografie delle più alte cariche, io non ce ne avevo queste foto, non c'avevo la prima donna presidente del Consiglio, la prima donna presidente del Senato, il Presidente della Repubblica, e quindi ho messo uno specchio. a dire che le ragazze che vengono qua si specchiano in questa... c'è la loro immagine, insomma, a dire che se studiano, se lavorano solo, perché no, la Costituzione dice che tutti possono ambire a svolgere ruoli costituzionali.